In un tempo che già ora ci appare lontano, la bellezza e la dolcezza del suono dell'acqua avvolge spazi amati e vissuti che per una frazione della nostra vita abbiamo dovuto abbandonare. I scorci delle strade deserte, percorse da una voce amica che invita rigorosi comportamenti, e la figura immobile e solitaria del nostro primo cittadino, che tutti noi unisce nel ricordo di coloro che ci hanno lasciato. Sono immagini che riportano al cuore l'angoscia e la solitudine di quei giorni, ma anche l'orgoglio per aver affrontato con forza e coraggio le difficoltà, il cambiamento dei ritmi e dei modi di vivere. La stessa determinazione tenacia che si legge negli occhi di chi ha continuato ad offrire servizi indispensabili alla comunità. Le immagini racchiudono la memoria di questo tempo sospeso, mentre oggi, guardando oltre, siamo qui a riappropriarci col rinnovato slancio e fiducia del nostro fare e dei nostri luoghi che torneranno a popolarsi di una nuova vita.